musica quello che abbiamo visto come è dato statistiche di adere che sia di che pa domani come è l'andata sì sì è stata una partita difficile siamo riusciti a sbloccarla subito però poi siamo andati un po' in difficoltà non abbiamo giocato come il solito e poi abbiamo preso un gol su un calcio piazzato che sicuramente potevamo evitare e da lì insomma rimanendo anche in dieci stavamo mettendo difficile però fortunatamente siamo riusciti a ribaltare questo risultato e insomma a portare la vittoria a casa chi segna insomma è un particolare comunque è uscito nei momenti importanti il carattere di questa squadra sì sì sicuramente è una cosa da sottolineare perché non è la prima volta che capita quindi vuol dire che fortunatamente abbiamo anche questa come caratteristica possiamo anche evitare insomma di farla uscire perché secondo me si può anche chiudere prima la partita oggi forse abbiamo sbagliato un po' troppo quindi dobbiamo lavorare su questo quindi diciamo la complicazione è avvenuta dopo l'espulsione di Borghetti con ancora 40 minuti da giocare sì potevamo fare più gol prima siamo stati fortunati sul primo che secondo me è partita da un'azione dove c'era un fallo di mano questo è evidente comunque c'era quindi siamo stati fortunati dobbiamo sfruttare più questa regalo tra virgolette è stato un bel duello con il portiere della forse in Bronese sì sì lui ha fatto poi qualche parata un po' secondo me l'abbiamo ammirato un po' ha fatto qualche parata quindi niente dobbiamo dobbiamo continuare così cercando di evitare questi momenti che poi siamo stati bravi ma anche un po' fortunati quindi dobbiamo giocare sempre con la fortuna noi vogliamo vincere sempre quindi l'appellativo del tecnico Ibrahimovic penso che sia abbastanza no 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 è andata una bella palla Davide lì l'ho girata poi insomma sono fortunato che è andata all'angolino comunque la doppietta di oggi hai raggiunto 14 reti quindi sei il massimo marcatore nel categorie no no sono contento che la squadra ha vinto sì sono contento proprio che ho fatto gol però non guardo tanto queste queste cose poi magari alla fine del campionato mi metterò lì a sì 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 grazie complimenti grazie grazie a voi